Quando nel 2020 i team ha annunciato la nascita di FiberCop come risultato dello scorpo della propria rete d'accesso secondaria, quindi quella in rame o in fibra che va dal cabinet fino alle nostre abitazioni, ed è l'ingresso del fondo americano KKR proprio in FiberCop, era stato contestualmente presentato anche un piano di copertura con reti in fibra ottica FTTH del 75% delle aree grigie e nere del nostro territorio entro il 2025, con l'idea di realizzarlo attraverso l'innovativo modello di coinvestimento aperto, definito proprio un paio d'anni prima all'interno del codice delle comunicazioni europee, che avrebbe concesso agli altri operatori del mercato la possibilità di investire nel progetto condividendone costi e rischi. Peccato però che quattro anni dopo, quindi all'inizio di quest'anno del 2024, si scoprirà che questa rimarrà soltanto un'idea. Infatti il 3 gennaio 2024, Tim ha annunciato ufficialmente il ritiro dell'offerta di coinvestimento con effetto immediato. Ma cosa è successo in questi anni? Perché quello che fu definito come il progetto di coinvestimento più grande d'Europa è malamente naufragato? Per capirlo dobbiamo partire dal 2021, perché se è vero che i primi annunci erano arrivati nel corso del 2020, in realtà la presentazione ufficiale del progetto è avvenuta solo a fine gennaio 2021, quando l'offerta di coinvestimento è stata notificata all'Agicom, che avrebbe poi avuto il compito di valutarlo ai sensi di quanto previsto nel codice europeo delle comunicazioni elettroniche, comunicando gli eventuali correttivi da applicare. Nei mesi di aprile e luglio sono poi arrivate delle integrazioni dell'offerta da parte di Tim, che hanno principalmente comportato l'ampliamento del piano a ulteriori 968 comuni in aree grigie, arrivando così ad un totale di 2.578 comuni e quasi 14 milioni di unità immobiliari, e lo slittamento della data di completamento del progetto dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026. Ad agosto del 2021 iniziano poi ad arrivare i primi accordi di coinvestimento e il primo è forse il più illustre, infatti Iliad è il primo operatore a stringere un accordo di coinvestimento per il progetto di FiberCop. Ad ottobre del 2021 arrivano invece i primi pareri dell'Agicom che comunica a Tim le proprie conclusioni preliminari, seguite poi nel mese successivo a novembre da ulteriori richieste di revisione dell'offerta. Intanto tra novembre e dicembre altri 5 operatori siglano accordi di coinvestimento, ossia Connectivia, AffinaOne, Weirlab, NetOIP e Springo. E nel mentre Tim invia ad Agicom la nuova offerta di coinvestimento con i dovuti adeguamenti richiesti dall'autorità nelle settimane precedenti. E il nuovo anno inizia con un'ottima notizia per il progetto perché ad aprile 2022 Agicom approva l'offerta di coinvestimento presentata da Tim per la rete di FiberCop e la notifica alla Commissione Europea che dovrà a sua volta dare l'ok all'operazione. Nel mentre anche TLC Telecomunicazioni sigla l'accordo di coinvestimento e quindi sembra veramente tutto apparecchiato per un lieto fine. E invece qualche settimana dopo accadrà ciò che innescherà una serie di effetti a catena che porteranno un paio d'anni dopo Tim a ritirare l'offerta di coinvestimento. Infatti a maggio 2022, quindi un mese dopo l'approvazione da parte di Agicom e la notifica alla Commissione Europea, Tim comunica di dover modificare l'offerta per indicizzare i prezzi sulla base della variazione dell'inflazione. E nel giugno 2022, quindi, Agicom decide di ritirare il dossier precedentemente approvato e notificato anche alla Commissione Europea, in quanto la modifica pare destinata ad incidere molto sullo schema tariffario dell'offerta di coinvestimento, rendendo quindi necessari ulteriori approfondimenti da parte dell'autorità una volta che Tim presenterà la nuova offerta. Questo dietrofronte non sembra però preoccupare il mercato. Infatti gli accordi con gli operatori proseguono e nel settembre 2022 è il turno di Apoacom stringere e siglare l'accordo di coinvestimento con Tim. E arriviamo al 7 ottobre 2022, data in cui Tim presenta la nuova offerta per il piano di coinvestimento, introducendo il meccanismo di indicizzazione all'inflazione dei prezzi che però viene immediatamente restituita al mittente da Agicom in data 20 ottobre 2022, in quanto l'offerta comunicata non è conforme con le condizioni del codice delle comunicazioni elettroniche. Un piccolo errore di forma in realtà e non a caso Tim trasmette la nuova ed aggiornata versione giusto una settimana dopo, il 27 ottobre 2022. A dicembre 2022 è poi il turno di un nuovo accordo di coinvestimento stretto con un operatore, ossia EasyLine che fa arrivare ad otto il numero di operatori che nel corso di questi anni hanno stretto accordi di coinvestimento con Tim per la rete di FiberCorp. E così finisce il 2022 con l'attesa degli esiti delle verifiche di Agicom che iniziano ad arrivare in forma preliminare nel febbraio 2023, momento a partire dal quale inizierà un periodo di silenzio che porterà Tim a non dare nessun tipo di comunicazione a riguardo delle revisioni richieste dall'autorità fino al 15 dicembre 2023, quando a seguito di un sollecito da parte di Agicom pervenuto in data 6 dicembre, Tim comunica l'impossibilità di accogliere le richieste fatte dall'autorità annunciando il ritiro dell'offerta di coinvestimento. A quel punto nella riunione del consiglio del 20 dicembre 2023 Agicom ufficializza la non conformità dell'ultima offerta presentata da Tim nell'ottobre del 2022 e con l'arrivo del nuovo anno, il 3 gennaio 2024, arriva anche il comunicato ufficiale di Tim a mettere ufficialmente la parola fine a questa storia dichiarando la chiusura del procedimento di valutazione e il ritiro con effetto immediato dell'offerta di coinvestimento. Ora, come avrete intuito, la faccenda è stata parecchio articolata e complessa, quindi cercare di dedurre dall'esterno le motivazioni di una o dell'altra scelta risulta essere un'impresa abbastanza ardua. Ma comunque cerchiamo di mettere sul tavolo alcuni spunti di riflessione. Il primo riguarda l'intreccio che l'allungarsi dei tempi ha causato con le operazioni di scorpo della rete di Tim. Infatti il modello di coinvestimento aperto, quello scelto per FiberCop, è un particolare modello di condivisione degli investimenti pensato specificatamente per gli operatori ex monopolisti e verticalmente integrati, ossia che offrono anche servizi ai clienti finali, diversamente da quello che fanno gli operatori wholesale only, come per esempio OpenFiber, che invece offrono esclusivamente l'infrastruttura e non il servizio ai clienti finali. E fino al 2020-2021 non c'era assolutamente nessun dubbio sul fatto che Tim fosse l'ex monopolista e soprattutto un operatore verticalmente integrato. Peccato però che già dal luglio del 2022, nel corso del Market Capital Day di Tim, sia stata dichiarata apertamente, proprio da Tim stessa, la volontà di abbandonare il modello verticalmente integrato, separandola parte rete, dai servizi rispettivamente in Netco e Servco. Una prospettiva che ha poi iniziato a diventare concreta già nell'estate del 2023, quando Tim aveva concesso a KKR il diritto esclusivo a presentare un'offerta vincolante proprio per Netco, che poi avrebbe visto il suo totale compimento qualche mese dopo, a novembre 2023, con l'approvazione da parte del CDA di Tim. Dell'offerta ricevuta. Un'operazione questa che, in fin dei conti, farà diventare Netco, quindi la rete di Tim e quindi anche la rete di FiberCop, oggetto dell'idea e del progetto di coinvestimento, una società wholesale only. E quindi il dubbio è che nel corso del tempo il modello di coinvestimento aperto sia apparso agli occhi di Tim sempre più come un qualcosa di superato o addirittura di non più necessario. Il secondo punto di riflessione riguarda invece il piano di copertura annunciato da FiberCop. Perché se da una parte il progetto in questi anni è proseguito e è lecito aspettarsi proseguirà grazie agli investimenti dei tre attori che compongono FiberCop, quindi Tim, Fastweb e KKR, dall'altra sembra abbastanza chiaro come le incertezze prima e il naufragio poi del modello di coinvestimento abbia rallentato gli investimenti previsti e di conseguenza anche l'avanzamento del progetto stesso. Sarà quindi interessante capire a questo punto le prospettive di completamento di questo piano e se dovremmo magari aspettarci qualche tipo di revisione. Ma oltre a questo rimangono anche appesi gli accordi di coinvestimento stretti negli scorsi anni con gli operatori come Iliad, TLC Telecomunicazioni, a fine a One e gli altri citati prima. Che fine faranno questo tipo di accordi? Con quali termini verranno risolti? Insomma il progetto di coinvestimento di Tim per la rete di FiberCop si lascia alle spalle diversi quesiti ancora aperti e l'unica certezza al momento sembra essere solo il fatto che il progetto di coinvestimento per come era stato inizialmente pensato non c'è e non ci sarà più. Grazie a tutti.